Ciao a tutti amici, sono Paolo Fiat e oggi sono qui nel campo di piselli dove ho questa fila di piselli li sto già raccogliendo, guardate che roba guardate quanto belli sono questi piselli, sono stupendi ve li faccio vedere ora dalla pianta, guardate che roba guardate che roba di piselli, io tolgo anche il ramo adesso perché tanto sono maturi eccoci qua, andiamo a vedere il prossimo, ovviamente questi qua sono cappucci che ho piantato qua davanti andiamo a vedere il prossimo, guardate che belli che sono guardate che belli che sono, belli gonfi questi non hanno visto nessun tipo di concimazione se non un po' di stallattico e quando li ho rincalzati gli ho dato, quando gli ho messo un po' di terra gli ho dato il compost per il resto non gli ho messo niente per questo video velocissimo è tutto, vi voglio soltanto fare dei piselli io me li raccolgo e me li vado anche a mangiare e niente, ciao a tutti amici grazie grazie